sei uno scatto fittista? fissista? ne ho provata una l'altra volta senza freni ed è veramente veramente difficile molto ed è totalmente senza senso anche abbastanza perché io mi ammasserei dopo come mangiare con le bacchette? cioè ora rispetto per le culture la forchetta è più comoda cioè mangi tutto con la forchetta non è che c'è un cibo che lo mangi meglio con le bacchette no ma sai perché? sentiamo il sinologo no adesso è una mia interpretazione anche un pochino però comunque in Cina non mangiano la bistecca di carne no ok cioè tutto è tagliato a pezzi comunque quindi tutto è fatto per essere preso con le bacchette o con la forchetta che non ti cade di sicuro sono comode le bacchette ma non è vero sono comodissime allora che poi quando sei abituato non ti viene naturale ok insomma è come la bici a scatto fisso cioè raga i freni è quello i freni cioè le bici a scatto fisso sono fatte per la pista sì 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 per la pista per i pazzi le bacchette sono fatte per Hong Kong e basta a Hong Kong invece ti danno anche le forchette bravi a Hong Kong perché sono stati colonizzati da noi che gli abbiamo imparato come si sta al mondo ah i bei tempi della regina vittoria quella vecchia non so dove c'è una c'erano delle esposte le mutandone della regina vittoria ci stava dentro un giocatore di un pilone di rugby erano dei bermuda praticamente sì 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 chiaramente noi siamo contrari a tutte le monarchie e vorremmo che fosse rovesciata anche quella britannica e che tutte le proprietà dei Windsor fossero scuottate sì sì come messe all'asta no no scuottate ma che asta gratis scuottate dal primo che arriva fra l'altro e che meglio alloggia sì 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 Grazie.